Incredibile, 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 connessione eccellente, connessione eccellente, incredibile, ci siamo, forse non va a scatti oggi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Marchino in Giappone, buona domenica a tutti, ragazzi, come per prima cosa, siccome sono milanista, volevo farvi vedere il mio entusiasmo della vittoria nel derby, sono molto molto soddisfatto, piccola cosa, magari nessuno sa che sono milanista, io sono milanista, mi piace il calcio, ecco, mi piace il calcio, quindi una gioia, una gioia. Bene ragazzi, allora, partiamo, il tema della diretta è come la vita in Giappone in questo momento, come la vita in Giappone, innanzitutto, mi vedete, ci siamo, mi sentite, siamo vivi, c'è qualcuno in chat, vediamo se funziona più che altro, no, perché non si sa mai, anche ieri abbiamo avuto qualche problemino tecnico, ciao Cristina, vediamo se abbiamo, forse un po' di ritardo, ecco qua, siamo partiti, allora, ragazzi, siamo arrivati già a inizio febbraio, siamo già arrivati a inizio febbraio, il tempo sta volando, e nulla è cambiato, nulla è cambiato, ciao, ciao, allora, Alessandro, poi abbiamo Giovi e Giorgio, ciao, 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 ciao a tutti, benvenuti, benvenuti in questa diretta domenicale, e anche oggi parleremo un po' di Giappone, ciao Eros, parliamo un po' della vita, di, com'è la vita adesso, in questo, in questo momento storico del Giappone, dopo due anni di pandemia, e mi ricordo che era proprio iniziato due anni fa, a febbraio, c'erano già le prime voci, quindi la nostra vita è cambiata, è arrivata la notifica, meno male, dai, funziona, attenzione, YouTube funziona, diamo qualche gioia dopo, dopo la vittoria nel derby, c'è anche la notifica, la notifica di YouTube che funziona, Ciao Danila, ciao a tutti, bene, allora, innanzitutto, la, ciao Anna, ciao, innanzitutto, la vita è cambiata, è cambiata, sicuramente, non in modo eclatante, perché qui, come mai si sa, è saputo e risaputo, non abbiamo mai avuto nessuna restrizione forte, quindi, salvo qualche tipo, per favore, non fate questo, mettetevi quello, fate quello, andate lì, non fate lì, cose del genere, ecco. Ciao Giovanni, ciao, 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 grazie Alessandro per il treno, è un video molto bello, sì, sì, è un video molto bello, grazie mille, spero, spero che vada più in alto possibile, ecco, che giri l'Italia, che giri, giri, che si faccia valere da solo questo povero solitario video del treno. Ciao Gabriela, è arrivato anche l'anno tipico, ah, cavolo, peccato che non sia fino a Sendai, magari anche, magari fino a, a, in Hokkaido. Il pat segnale al console, no, il console adesso si sta preparando, perché sta partendo per il Congo, quindi, è impegnato per le, per le sue cose. E, allora, un attimo ragazzi, che metto la chat dall'altra parte, siccome la mia faccia è da questa parte, metto la chat qui, così, ecco, così si vede bene la mia, la mia, la mia brutta faccia. E, quindi, ragazzi, no, quello che volevo dirvi, è, proprio, parlare, proprio, di com'è la vita in questo momento, in questo momento storico, e, devo dire che, anche quando si va fuori, c'è, c'è, c'è anche qua in Giappone, una sorta di, diciamo, non dico paura, però c'è una, un po', sai, l'atmosfera è diversa, c'è la voglia di, diciamo, di non stare vicino a altre persone, e, magari, quando si sente uno a tossire, non lo so perché, ma mi viene distinto, non so, anche se a voi vi viene distinto a mettervi la, la mano nella mascherina, e, no, so, è una cosa che mi viene, istentiva, ecco, magari anche a voi. C'ho la faccia da ricercato, beh, ho appena fatto la doccia, quindi, sono, ho la faccia più che altro da, da, rilassato, e ho la felpa verde, sì, la mitica felpa verde dalle mille avventure. Chissà quali grandi altre avventure vi riuscirò a fare quest'anno, cioè, è già partito molto bene, quest'anno, ho avuto l'avventura del Tohoku, che non so se l'avete vista su Instagram, è stata veramente molto bella, pian piano ve la metto anche su YouTube. Ho iniziato con, con, con il video del treno, che ovviamente è stata la partenza, poi piano piano vi metterò gli altri, soprattutto, quello che, secondo me, è quello che vi più interessare, probabilmente, è un, è il video quello del whisky, probabilmente, non lo so. Perché penso che sia un'esperienza, non da fare, un'esperienza sicuramente che, che molti di voi, quando verranno in Giappone, secondo me, la vogliono, la vogliono fare, quindi, penso che, vediamo se, se riesco a mettere, ah, guarda qua, ci sono, c'è anche, vedete, c'è il coso di Twitch, quanti spettatori, la mettiamo qua, Facebook, vabbè, irrilevante, vabbè, non serve, dai, Twitch, sono preparatissimo, ragazzi, questo Stream Lab è veramente, fantastico, fantastico, i nostri erano, con i sedili, che si ritiravano, diventavano a letto, si tirava giù, ma, allora, ho avuto l'esperienza in un treno notturno, quando ero, alle scuole superiori, erano andati a fare la gita, a Parigi, e avevano preso questo treno notturno, e, allora, mi ricordo, in effetti, che non era pulito, era, cioè, era, non era, diciamo, sporco, però non era pulitissimo, la pulizia giapponese è, 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 è veramente stata, abbastanza, scioccante, nel senso, adesso sono abituato, però, se ci penso adesso, sicuramente, è, è vero, è vero, è vero, è, è, è molto, 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 molto più pulito, assolutamente, 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 e, il fatto che poi, c'è il, 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 il pavimento riscaldato è top, cioè, c'è il pavimento con la moquette, con il, è riscaldato, è veramente, 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 veramente top, Marchino, prima o poi, eh, riaprete, e vi, ehm, condizionate tutti, in un massimo di paio di, di anni, eh, ma, secondo me, siamo già contagiati tutti, chissà, Marchino, prima o poi, ah, no, e i tappeti, i tappeti aspetto, eh, sì, quello dei tappeti, eh, infatti, dove, con il logo di, di YouTube, anche, non vuole essere una critica al Giappone, governo giapponese, ma non sono troppo, ma sì, no, eh, Ros, ti do completamente ragione, anzi, devi, anzi, la tua è una critica molto leggera, la mia potrebbe essere molto più pesante, da quasi ban di YouTube, è meglio che non mi esprimi, in questo momento, perché sono molto tranquillo oggi, ragazzi, non fatemi, non fatemi arrabbiare, non fatemi sbroccare, sono molto tranquillo, oggi ho fatto anche delle compre, eh, sono andato al supermercato, ho fatto un casino di spese, ho preso un po' di tisane, e ho preso questo qua, che è senza caffeina, eh, molto buono, molto buono, quindi sono, sono abbastanza rilassato, mi ha telefonato anche mio papà oggi, mi ha telefonato, era da un po' di, io non so, forse avrà sentito la, la, la diretta di ieri, ma, non lo so, però mi ha telefonato, era tanto tempo che non sentivo mio papà, sta bene, era fuori, era andato al bar a fare un giro, eh, sta bene, sta bene, quindi mi ha fatto, mi ha fatto piacere risentirlo, oggi finalmente è arrivata la notifica, grande, grande, dai, ogni tanto una gioia, ci siamo, dai, ogni tanto si blocca, eh, devo migliorare questa cosa, cioè, sono collegato con lo streamlab, eh, per fare le dirette molto più, eh, smoothly, eh, dovrei utilizzare, magari, l'altro, lo streamyard, eh, però c'è sempre il logo streamyard che mi dà fastidio, però sto pensando, siccome, siccome ho in programma di fare molte, molte dirette, da adesso in poi, eh, sto pensando di fare questo piccolo, un piccolo investimentino, eh, per, eh, streamlab, no, scusate, streamyard, perché voglio connettere, eh, youtube e facebook nello stesso momento, eh, non sarebbe una brutta idea, però dipende da, adesso vediamo come va queste, queste dirette, se c'è qualcuno che, eh, si abbona, dipende, dipende anche molto da voi, ecco, dipenderà molto da voi, eh, se c'è qualcuno che si abbona, o che, eh, manda, ci sono gli stickers qua, con, eh, con le donazioni, cose varie, quindi, dipenderà, dipende, da tutte le cose dipendono dai risultati, ecco, eh, quindi, eh, quindi vediamo, 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 ogni tanto, eh, preso l'argilla, non ancora, non ancora, non ancora, sono ancora, vedete, c'ho questa, perché non mi fa male, non mi dà fastidio, eh, quindi, non lo so, non sono ancora andato dal, 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 dal dottore, chi investirai, eh, investirai con l'auto, investirai con, no, no, non investo nessuno, eh, tranquillo, sono, sono un, un cittadino tranquillo, a proposito di aver visto il video di facebook, polpo, eh, si dice polpo, non polipo, i polipi, ah, si, scusate, il mio italiano è, è pessimo, eh, se senti, il 90% dei miei video, eh, sono, errori grammaticali, a manetta, il mio italiano è pessimo, non sono qua, sicuramente, a, a insegnare l'italiano a nessuno, eh, ah, Mariolina, invece, aspetta, quello di, Bonsai, quello di Bonsai, sì, 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 Bonsai, infatti, secondo me, stanno, stanno per uscire dei video, secondo me, molto, molto, interessante, molto interessante, e quindi, piano piano, piano piano li metterò, piano piano li metterò, ci siamo, ci siamo quasi, ecco, ci siamo quasi, e quindi, allora, ragazzi, la vita di tutti i giorni, com'è la vita di tutti i giorni, è cambiata, è cambiata, sì o no? Sì, allora, è cambiata, perché comunque, non, non facciamo le stesse cose di prima, ma, ecco, ovviamente, è cambiata più a livello mentale, ecco, è cambiata più a livello mentale, ehm, che, eh, a livello pratico, mh, la maggior parte del, dei lavoratori giapponesi, che, ehm, che, comunque, eh, ha un lavoro stabile, bene o male, ha cambiato la vita, però, forse è meglio, devo dire, io, prendo anche l'esempio, ecco, di, di mia moglie, che ha un, è un, è un, è un lavoro a tempo pieno, e, e, e anche lei, mi dice, Marco, adesso per me, è il paradiso terrestre, cioè, fa, fa, non deve andare in omicai, cioè, non deve fare, non deve andare al, a bere con, con i capi, così, meno ore, a lavorare, e, eh, quando va fuori, eh, nei negozi, c'è, c'è, c'è meno gente, in, ehm, no, non lavora in farmacia, lavora per una, eh, azienda che, di, 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 di medicinani, ecco, e, quindi, è un lavoro stabile, è un lavoro stabile, è un lavoro, è un lavoro, della quale, la sua, la sua, la sua vita, come, forse, la maggior parte dei giapponesi, non è cambiata, e, quindi, per loro, non ha un, un, um, un grande peso, ecco, questa, questa pandemia, poi, adesso, più che altro, ci sono delle, quelle nuove regole con, col covid, che queste, invece, pesano un casino, perché, faccio un esempio, no, il, se uno prende, uno della famiglia, uno dei membri della famiglia, oppure uno del, chi è vicino, prende il covid, e, eh, ovviamente, fa testare anche quelli che ci sono intorno, e, eh, cosa, cosa succede, deve stare a casa, da lavorare, e il salaryman, eh, lasciarlo a casa da lavorare, è una tragedia, è, come, è, è, come, è, è, veramente, ho sentito, a volte, dei, dei discorsi, tipo, no, no, non posso permettere di stare a casa, da lavoro, cose del genere, ragazzi, va a scatti, secondo me, eh, ogni tanto, perché, qui, mi è venuto fuori, youtube, non sta ricevendo un riflusso video sufficiente, perché, anzi, uno stream in uniforme, in questa situazione, rispetto a te, potrebbero riscotro, ragazzi, ditemi se va bene, oppure no, perché, eh, potrebbe andare a scatti, a volte, mi è venuto fuori questo messaggio, chissà, vabbè, eh, dovrò fare qualcosa di meglio, perché, eh, dovrò utilizzare qualcosa di meglio, perché, qua, hm, 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 ho sentito che in Giappone fanno le pubblicità televisive per le mascherine, può darsi, non guardo molto la televisione, devo dire, devo dire la verità, eh, italiano, no, allora, non tanto, non tanto, dipende, sto, sto spettando, io gli ho detto, non gli ho sforzati, non, eh, gli ho detto che quando poi sono grandi, cioè, sono grandi, sono proprio grandi, se hanno voglia, se hanno interesse, gli aiuto, se no, no, non, non lo so, è stata una decisione mia, non, sicuramente avrò fatto male, non lo so, molti, molti pensarono che avrò fatto male, altri no, però, eh, comunque, non parlano l'italiano, non, non capiscono l'italiano, non, non, qualche parola sì, ovviamente, ma, però, non, non rispondo, no, poi io, devo dire, eh, allora ragazzi, parliamoci chiaro, eh, non è stata solo una scelta mia, è una, è che io ho deciso, quando sono venuto qua in Giappone, di lavorare come salaryman, in un'azienda giapponese, per, eh, per undici anni, quindi sono stato impegnato molto, e i miei bambini hanno dodici, uno dei dieci anni, e nel tempo erano, eh, erano piccoli, io comunque ero, ero lavorare spesso, ero fuori, ero fuori casa, e, quindi, non ho, cioè, non, non ero un freelance, come adesso, ecco, non ero un freelance, che ero in casa, ero, ero fuori, anche se, guarda, anche adesso, comunque, spesso vado fuori, però, sono molto più presente adesso, ecco, prima, praticamente, no, poi c'era l'aiuto della nonna, andavo all'asilo, e, tante cose, quindi, non, non ho avuto, ho pensato più a, a, a mantenere la famiglia, avere un lavoro stabile, avere la mia esperienza lavorativa qua in Giappone, per poi, ovviamente, poi, mi sono lanciato come, come freelancer, ehm, cinque anni fa, ecco. Le criptovalute, sono viste bene, 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 no, 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 molti giapponesi le fanno, molti giapponesi le fanno, e, e, molti giapponesi si stanno interessando anche agli NFT, adesso. Ah, ma, 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 ormai sono, sono grande, ormai è troppo tardi, non, se li parlassi adesso, con, io parlo con loro, parlo in giapponese, parlo in giapponese, un po' inglese, ecco. Ogni tanto si blocca, ragazzi, scusate, purtroppo non, non, non so, eh, forse, un attimo che provo, vediamo, un attimo, stream, output, eh, non si può cambiare adesso, come che c'è, siamo, vabbè, andiamo avanti così, per oggi, dai, per dopo guarderò qualche impostazione. I locali chiudono adesso, eh, chi vuole l'aiuto economico dello Stato, adesso c'è il limite fino alle nove di sera, l'hanno chiamato questa manovra, la governatrice l'ha chiamata Mambo, un nome strano, un nome da balotta, da ballo, invece, eh, 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 invece, eh, sono delle restrizioni, eh, che poi dureranno, penso, fino al 14 febbraio, barra, sì, metà febbraio, ecco. Ci sono dei limiti, eh, come seconda lingua è meglio l'inglese, poi magari per curiosità, come dici tu, se gli piacerebbe l'italiano, infatti, no, se gli piace, lo vogliono, eh, io voglio, eh, non voglio sforzare nessuno, ecco, se, ogni tanto glielo chiedo, eh, però vedo che Luca, Luca ultimamente, ma, ma, ha detto che ha, ha qualche interesse verso la lingua italiana, quindi, vediamo, 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 aspetta che voglio vedere il video, con, su YouTube, speriamo che non parta l'audio, non far partire l'audio, non partire audio, non partire audio, partirà l'audio sicuro, no, ecco, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, e, eh, e quindi, no, 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 Mambo è il nome della, della, della manovra governativa, del, che, che determina queste, queste limitazioni per i ristoranti, ecco, non è una nuova variante, non vi preoccupate, non lo è, non lo è, chissà come sei, la nuova variante, le nuove varianti, le chiamerò, le chiamerò, eh, saranno Gundam, eh, Goldrake, saranno le nuove varianti, grazie Cristina, grazie mille per lo sticker, 5, 5 euro, grazie mille, grazie mille, grazie, grazie per l'adolazione, il Mambo è il museo di Bologna, ecco, mettiamola così, magari si parla italiano quando giocate a calcio, ma sì, sì, ci sarà tempo, dai, non è un problema, non è, non è sicuramente un problema, anzi, anche perché il mio obiettivo non è farci i video su YouTube insieme, ecco, non, saranno poi, eh, avranno una vita, comunque, con questo, con questo, il futuro, non lo vedo molto bene in Giappone, ma in tutto il mondo, eh, sarà veramente, un futuro molto, molto complicato, secondo me, a livello economico, quindi, gli auguro, gli auguro il meglio, gli auguro sicuramente il meglio, oddio, no, no, sta crollando tutto, rimani qua, grazie, grazie Cristina, veramente, che bel e quindi, e quindi, non, ci sono queste restrizioni, ma porca paletta, ci sono queste restrizioni che hanno un po' cambiato la vita di tutti i giorni, però, bene o male, il Giappone, il il Giappone standard non ha cambiato tantissimo, anzi, per loro è quasi migliorata la vita, ecco, e questo è abbastanza preoccupante per me, e per gli stranieri, perché non c'è quella voglia, tipo, di dire, ok, apriamo le frontiere ai turisti, perché comunque non, adesso stanno bene, cioè, la gente qua sta bene, cazzo gliene frega, e, però, il problema è che questi qua non hanno ancora capito, che adesso stanno bene, però tra due anni gli arriverà la botta, perché senza i soldi stranieri, senza, non è solo uno fattore di turismo, è un fattore che molta gente non investe più in Giappone, comunque la valuta straniera è importante, molti loro non capiscono, non capiscono questa cosa, e vedrai che tra qualche anno si beccheranno tutto, perché le tasse andranno in alto, sicuramente, da 10% andrà sicuramente a 12%, almeno tra i prossimi due anni, sicuro, e quindi sono abbastanza, poi vedrai che quando poi, tra due anni, quando loro si beccheranno tutto nei denti, io invece gongolo, perché inizio a macinare col turismo, infatti, sinceramente, io sono più preoccupato per loro che per me, in questo momento, perché loro adesso, la famosa luck zone, non so se capite l'idea, la famosa luck zone non ti permette di preoccuparti, no? E non pensi, no? Non si pensa, invece, facendo così, loro si sono rilassati, si stanno rilassando, molti loro, e non devono farlo, perché quando arriverà la botta, poi dopo capiranno come mi sono sentito io in questi due anni, questi due anni nella quale noi stranieri che viviamo qua ci siamo sentiti un po' nella bolla, diciamo, la chiamo, io la chiamo la prigione d'oro, ecco, anche perché ho visto, e tuttora vedo che ci sono molti giapponesi che vanno avanti e indietro, vanno... la cosa che mi fa più ridere, non so se ridere o piangere, è che il ministro giapponese ha deciso, ok, non facciamo entrare i turisti, non facciamo entrare gli stranieri, va bene, però ha lasciato via libera ai giapponesi che vanno in giro, in giro per il mondo, quindi se vedi i giapponesi che va all'Hawaii, che va in Islanda, va in Italia, va in America, un po' come, un po' come potete dire, vai, i giapponesi non portano il virus, no, solo gli stranieri, ovviamente, invece, infatti, beh, e quindi... è quello che mi fa girare le scatole, capito? Cioè, queste decisioni inutili, della quale potevano benissimo tenere aperto il turismo in un modo ovviamente controllato, almeno per gli inizi, e invece, invece di chiudere tutto, cioè hanno esagerato, esagerato, e poi non solo chiudere tutto, in più, cioè non hanno mai, non hanno mai pensato di riaprire, no, e questa è la cosa preoccupante, è molto preoccupante questa cosa, addirittura hanno fatto le olimpie, cioè le olimpiadi mondiali chiuse, no, cioè cosa... come sta facendo adesso la Cina, come sta facendo la Cina, cioè quindi il Giappone faceva bla bla bla, mamma, 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 cinese di qua, cinese di là, poi alla fine hanno fatto come loro, eh, non è che... hanno fatto, chissà, qualcosa di diverso, no... ma... veramente, ragazzi, non so... non so come esprimermi, non so come esprimermi, veramente, ho finito, ho finito le parole... è finito Sanremo, ragazzi, ma chi... chi ha vinto? non l'ho seguito quest'anno, non l'ho seguito... e infatti ho sinceramente paura di vedere episodi di razzismo verso gli stranieri una volta riaperto, ma, guarda, episodi di razzismo secondo me non ci saranno, nel senso, allora, ehm... al momento in cui vengono riaperti, ehm... cioè le frontiere vengono riaperte, comunque si informerà tutto il paese, ecco, di questa cosa, e poi, ehm... conoscendo il giapponese, ehm... face to face, ehm... l'azione, tra virgolette, razzista, non la vedrai quasi mai, sì, praticamente mai, ehm... magari, ehm... c'è al... al... una cosa invece indiretta, ok? Ti faccio un esempio, ehm... io, agente turistico, no? Mi contatto magari un cliente... è... è un esempio, ragazzi, non è... non è verità, ecco, ehm... ho una... una richiesta per alloggiare in un... in un alloggio tradizionale, in una prefettura, ok, ehm... di periferia. Chiamo, ehm... siete disponibili per il... non so, il 12 giugno 2022 per due persone, ehm... da due clienti che vengono dalla Spagna? Ma... la... ci potrebbe essere una risposta che vuol dire, ma... non lo so... dalla Spagna? Siamo un po' preoccupati... vivono in Giappone? No, vengono dalla Spagna, beh, per turismo... ehm... ciotto... forse... siamo... controllo, ok? Va... va a controllare... eh... siamo occupati quel giorno lì, che... magari non è vero, però... ci possono essere queste cose, quindi io... ehm... mi dice questa informazione, ovviamente, al cliente non è che gli dico... ehm... non ti vogliono, e mi dico... ehm... sono occupati, hanno una stanza... cioè, è successo, vi dico, ma anche in passato, eh, questa cosa, eh... che... io ve lo dico, è successa, ehm... non sto scherzando, adesso non sto scherzando, è successa... è successa... è successa che magari non volevano che... che... che venisse lì il... lo straniero... però... vabbè... e quindi... però voi diretti... direttamente non... non ricevete... non ricevete... cioè, non avrete mai queste esperienze, lo abbiamo... lo abbiamo noi, perché viviamo qua, abbiamo contatto... e poi c'ho... e non è che io telefono, è la mia collega giapponese che telefona e... e hanno questa conversazione, capito? se ti... se io telefonassi, invece, magari... eh... non... non avrebbe questa... questa reazione. Comunque, eh... andiamo avanti... eh... ma gli hotel saranno alla canna del gas senza turismo internazionale? No, le associazioni degli albertoni non fanno pressione... ma guarda, Vittorio, allora, ti devo dire che gli hotel sono... eh... incredibilmente... ehm... non dico pieni, ma sono abbastanza occupati... non tutti, eh... però molti di loro sono occupati perché... il governo giapponese continua a dare... ehm... degli incentivi, eh... con i sconti, tutto quanto... ehm... per... per viaggiare internamente, addirittura... dentro la prefettura... l'altro... lo scorso mese... ehm... c'era questa... questo incentivo della prefettura di Osaka, come in tutte le altre prefetture, ce l'aveva... eh... prefettura vuol dire provincia, ragazzi... non è un... non è il carcere... non è... non è... non è una... non è una... non sono i carabinieri... e... ehm... e niente, c'era questo sconto... mega galattico, tipo del... del 50% per... per andare all'hotel... adesso poi... devo dire che veramente... se voglio andare in un hotel a Kyoto... cioè con... 8 euro... 5 euro... 8 euro... e... e anche hai hotel abbastanza... buoni, eh... e veramente adesso costa tutto poco... costa veramente tutto poco... viaggiare adesso... costa... costa poco... e quindi... gli hotel... eh... diciamo che non hanno avuto... e quelli principali, ecco... un... una botta mega galattica... magari... ehm... non so... quelli che hanno tantissime stanze... ecco... sì... quelli forse sì... i ristoranti... ehm... possibilità che non accettino gli stranieri quando... ma... ehm... probabilmente... ehm... questa cosa probabilmente non succederà a Vittorio secondo me... ho questa impressione... ho questa impressione perché lì... ehm... ehm... diciamo che... ehm... hanno bisogno anche loro di... di... di clientela... però... devo dire ancora un altro fatto sgradevole che mi è successo... ragazzi... oggi è la giornata del... 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 del big shock... giapponese... ero l'ultimo dell'anno... magari è stato l'ultimo dell'anno... però... ehm... vabbè... comunque... ero con un... un amico... era l'ultimo dell'anno... no... il giorno dopo... dell'ultimo dell'anno... era lui... il primo dell'anno... e sono andato... un mio amico è venuto a Kyoto... e siamo andati a... a mangiare la cena fuori... cioè... volevamo mangiare la cena fuori... e... presente quel giorno... non so che mi... se mi seguite su Instagram... il primo... il primo... il primo dell'anno... io ho messo... ho fatto delle stories... dove sono andato al... a fare l'aperitivo... a... un rooftop a Kyoto... bellissimo... tra l'altro... che mi piace tantissimo... che si chiama... K36... se avete soldi... se siete ricchi... andateci... costa veramente tanto... un aperitivo... sui 60 euro... è... abbastanza pesante... però... vabbè... molto bello... eh... c'è... la vista è tutta a Tokyo... è di Kyoto... bellissima... si vede addirittura al Kiyo Mezzodera... vabbè... detto questo... e... meno male che siamo andati a fare questo aperitivo... e... e... perché dopo siamo andati alla ricerca di un ristorante... oh... ragazzi... siamo andati... siamo andati in questa catena... una catena... del cavolo... c'è proprio catena... presente quelle yakitori... dove... c'è... quelli da battaglia... tipo... un yakitori costa 100... 100 yen... 120 yen... e... e niente... sono arrivato al... sono entrato al negozio... sono andato al negozio... il... il tip... io non gli ho fatto... non ho fatto neanche in tipo a dire... siamo in due... futari... e... il tip... mi ha iniziato a fare... ma... 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 c'è... non m'ha... non m'ha neanche parlato... non m'ha risposto... mi ha fatto così... e... 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 io gli ho risposto... siamo in due... possiamo anche aspettare... c'è... quanto tempo c'è da aspettare... possiamo aspettare... abbiamo tempo... da me... da me... c'è proprio... c'è proprio... c'è proprio... mi ha trattato... c'è... non voleva assolutamente... il... il... avanti... a degli altri clienti... che stavano pagando... questa cosa mi ha fatto girare... talmente i coglioni... veramente mi ha fatto... perché il modo... come... come... come l'ha... come l'ha detto... e... veramente da... c'è presente... da... 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 pezzente... cioè... mi ha trattato... da pezzente... da... cosa mi ha... veramente mi ha... mi ha... mi ha... dato un fastidio... io... sono... sono... rimasto... sono rimasto lì... e... e gli sono andato davanti la faccia e gli ho detto adesso mi spieghi il perché adesso me lo devi dire o non mi ha voluto rispondere perché se lui mi dicevano ok oggi accettiamo solo prenotazioni per esempio o scusa è l'ultimo order così e io accettavo ok vado dall'altra parte però tu da essere umano ok da essere umano vengo al tuo ristorante per mangiare da te per spendere dei soldi e tu l'unica cosa che mi sai dire è questo mi fa incazzare perché ok io sono qua sono marco ferrari vivo in giappone da tanto tempo ok posso capire ma immaginate un turista che viene qua e si becca questa cosa no cioè come può tornare a casa felice un turista no che si becca questa questa cosa sinceramente non è la prima volta che mi succede però così rude così in modo così io lo definisco molto chip no molto scadente no cioè veramente scadente no pessimo è stata veramente la prima volta così così forte mi è dispiaciuto tanto di verità e poi era il primo dell'anno cioè partire l'anno così mi ha fatto girare anche molti 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 coglioni sinceramente detto questo non so se dirti che questo è un atto razzista non lo so però sicuramente non è un bel gesto c'è una cosa che secondo me in italia non succede una cosa del genere cioè almeno ti spiegano l'italiano diciamo scusa stiamo per chiudere mi dispiace no magari magari non dice neanche mi dispiace no però esatto 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 se proprio mi devi risprimere mi a meno di mi qualche cioè dimmi la ragione cavolo cioè non è che però è successo è successo è un dato di fatto vero purtroppo e quindi come a rispondere vittorio probabilmente può succedere ragazzi perché se è successo a me che io parlo giapponese non può succedere anche una persona che cioè lui è stato c'è questo questo questa persona al ristorante è stata fortunata che non si è beccato l'americano di due metri davanti a lui perché veramente cioè lui è stato fortunato avere avere il che che c'ero io no perché comunque io non so litigare non non sono molto pacifista però se c'era un americano ubriaco un australiano cioè veramente gli spaccava gli spaccava la testa questo tipo qua cioè veramente c'era io pregavo per lui quando molti giapponesi vengono a vancouver si innamorano sopprendo del molti giapponesi della diversità che hanno nessuno ti giudica comunque ho detto questo ragazzi sono cose che rare ecco possono succedere ecco se sei se sei sfortunato sono stato sfortunato io sono capitato in quella situazione perché comunque era un giorno particolare cioè non so se siete mai stati in giappone ai primi dell'anno ma è tutto chiuso e quindi cioè noi non avevamo scelta avevamo pochissima scelta e siamo andati nei ristoranti quelli in unici aperti e poi dopo siamo andati in un altro siamo andati in un altro ristorante dove è successo un altro fatto diverso però e lì è stata è stata veramente un'altra cosa siamo andati in un Okonomiyaki Yasan ecco dove fanno l'Okonomiyaki e niente siamo andati lì oh ragazzi mettete il nome ok abbiamo messo il nome e quanto c'è da aspettare? 10-15 minuti vabbè ad un certo punto il tempo passa passa 20 passa mezz'ora non ci chiama nessuno ci chiama e davanti a noi c'era un'altra coppia e l'altra coppia era una coppia mista c'era uno cinese e poi il marito giapponese e non chiamava nessuno cioè non ci chiamavano noi eravamo lì fuori come dei pesci alessi ad aspettare ad un certo punto la cinese si alze va dentro e gli chiede ma scusa ma ci stiamo aspettando noi fuori no? ah scusate potete adesso potete entrare cioè ci hanno fatto aspettare fuori senza venirci dentro a senza andare fuori a chiamare quindi vabbè diciamo che non è stata la serata fortunata l'anno è partito il primo dell'anno meno male meno male che poi sono andato a sono stato a fare l'aperitivo super lusso che mi ha cambiato cioè mi ha tenuto l'umore alto per tutta la serata assolutamente assolutamente è stata veramente un una giornata che c'era c'è ancora ogni tanto scrivo il mio amico che è venuto a trovare mi ha detto Marco primo dell'anno mai più mai più stiamo in casa basta non usciamo più veramente se non venite in Giappone i primi dell'anno ragazzi perché è tutto chiuso è tutto chiuso sembra quasi un altro un altro un altro paese un altro paese se 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 e quindi dai ho avuto questi due 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 problemi del resto non ho avuto altri problemi in questi anni delle cose del genere anche sul treno pensavo che ogni tanto magari c'è vedere lo straniero non si sedessero vicino a me non è successo a me ma sul treno una volta c'era un ragazzo di colore che era seduto presente non so se siete mai stati in Giappone era seduto su nei quattro posti quando tu entri nella parte sia destra che sinistra ci sono i quattro posti che sono uno i primi due che sono girati verso la parte opposta del treno e gli altri due dall'altra parte opposta e e c'era questo questo ragazzo di colore che stava ascoltando la musica si faceva i cavoli suoi era seduto c'era c'era il treno pieno e lui era seduto lì con i quattro sedili ed era da solo infatti sono entrato c'era la gente addirittura in piedi no sul treno che poteva benissimo sedersi e non si è seduta e io mi sono seduto e quindi per me è stato grazie bella storia mi sono potuto sedere però mi ha fatto sentire dai poverino questo ragazzo cioè era lì seduto da solo che ascoltava la musica un po' triste no dai niente oggi ragazzi cos'è la è la serata è la diretta delle storie tristi del Giappone che brutta che brutta diretta che brutta però dai sono dati di faccia sono verità dai non sono quello che che sicuramente vada a sbandierare i problemi del Giappone però ci sono anche questi ecco chi con un inizio dell'anno così ti conviene non prendere un gioco no esatto esatto no però però sono convinto che quest'anno è un anno positivo ho preso anche tutti i Daruma giusti tutto quanto c'ho anche Super Mario c'ho la piantina del Super Nintendo c'ho tutto curiosità in Giappone hanno il Kinotto si c'è 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 alcuni ristoranti italiani l'hanno importato è quello della San Pellegrino a me è capitato che su un treno locale un vecchio si scostasse appena mi sono seduto che chi so io ho visato più no infatti no no infatti è come poi la prende cioè nel senso io la prendo con filosofia e dico vabbè c'ho più spazio ecco quello invece che non sono uscito a prendere in filosofia è il tipo del ristorante cioè non so ragazzi voi c'è che reazione cioè io ce l'ho ancora qui adesso mi avete fatto tornare a me da questa cosa sono cavoli vostri cioè però cioè se voi no uno che vi viene davanti la tua faccia invece di dire vai via cioè ti fa addirittura il segno così cioè voi come reagite cioè come cioè come io mi domando come lui nella sua testa no io potevo reagire a una cosa del genere cioè io cioè è impossibile reagire cioè cosa vuoi gli applausi non so cioè non cioè io la vedo è una cosa fuori da ogni logica una cosa del genere vabbè dai da cielo grigio e piagerino queste storie sono perfette per il mood esatto esatto anche la spuma balafon la adoravo li ho li ho letto qual'è? qual'è la spuma balafon? aspetta andami dopo la vedo l'idea ah quando viaggiai in Giappone e quindi dai abbiamo abbiamo queste dopo l'ora devo cambiare no ma dai alla fine il titolo ci sta dai com'è la vita adesso in Giappone ci sta ci sta stiamo raccontando dei fatti che sono successi recentemente quindi è inerente al titolo dai è inerente al titolo avete avete delle domande non so avete se avete delle domande fate pure approfittatene ero un pezzetto di bisogno di un proprio gusto di Gucci ormai sono il mister Gucci che ristorante era stato buonissimo i cappelletti i tortellini veramente buoni comunque anche a me è capitato di prendere un paio di da me nei ristoranti che non so non so se fossero dovuti motivi veri perché non volevano servire stranieri vedi vedi no succede succede quindi quindi Vittorio probabilmente quando riaprià il turismo probabilmente succederanno queste cose ma succedevano anche prima ecco quindi è per quello che la mia risposta non penso che cambierà la cosa ecco magari ci sarà un po' più di di cose però qui sicuramente utilizzeranno la super mascherina avranno la mascherina avranno la copertura qua tutto qua tutte queste cose tutte queste restrizioni giapponese anche oggi facciamo un'oretta ragazzi pianifichiamo anche la prossima diretta vediamo la prossima diretta ci sarà ci sarà vediamo quando la faremo quando la faremo potremo farla il che ne dite ragazzi il 9 il 9 febbraio mercoledì marchino ti vorrei raccontare una cosa tanto siamo in tema la mia amica è stata cacciata via da casa del padre del fidanzato perché non accettava che loro si amavano e si volevano sposare wow racconta racconta gabriela tuta alzmat e via tuta alzmat e via la spuola belladina ho detto l'adorano i nipponici i giapponesi amano le cose italiane comunque io a roma ho assistito a un a un a un a un a un che ha preso per il braccio una ragazza spagnola e l'ha buttata fisicamente è la madonna veramente perché si è davvero cavolo quindi dai allora non c'è non c'è solo qua qua in giappone ecco ad osaka che c'è di nuovo adesso siamo in pieno mambo siamo in pieno mambo osaka siamo è una città sicuramente molto più dirigente che tokyo invece sono sono dei disgraziati già loro a tokyo la pandemia non c'è mai stata ve lo dico loro hanno sempre fatto i tokyesi che vive tokyo la movida l'hanno sempre fatta tutti questi due anni sempre sempre non è mai cambiato nulla sono stati loro poi vabbè ma tutto il resto dal giappone guardava tokyo come va a dire che cazzone i soliti sbruffoni un po' come parigi tokyo è come parigi hanno tutti la puzza sotto il naso sono sono quelli che quelli che sanno tutto quelli che fanno tutto quelli che hanno i soldi quindi si sentono superiori quindi osaka bene o male sono stati è stato abbastanza molto più tranquillo ecco in questi due anni adesso parte vabbè il centro centro però ci sono i ragazzini i ragazzini anche loro si sono sempre sbattuti tutto non è cambiato nulla i ragazzini anche lì la pizza era orrenda ma io me ne sono guardata da era così faceva così schifo la pizza se la spagnola aveva ragione la tifa si è incazzata google la chat in ritardo perché io parlo e voi rispondete tipo eh ma Tokyo ha tutto a Tokyo c'è tutto a Tokyo c'è tutto la posta ti arrivi in orario incassando ingazzando ingazzando ragazzi ragazzi io vedo 24 spettatori ma 17 mi piace cliccate il mi piace non dimenticate per favore se avete altre domande fate pure se no possiamo chiudere la diretta anche qua abbiamo fatto una oretta la classica oretta e poi ci risentiamo mercoledì ragazzi mercoledì mi raccomando ci risentiamo sempre la solita ora molti di voi saranno a lavorare probabilmente mi dispiace manca solo Go a Tokyo a Tokyo manca manca tante cose e poi la chat non arriva in orario se il posto più bello che ho visto in Giappone eh guarda non ho visto tante è una domanda difficile il posto più bello no il posto più bello mmm fammi pensare ma la natura la natura l'ho vista tanta a me è piaciuto tantissimo Yakushima Yakushima è veramente stato bellissimo la la foresta dei cedri millenari è stata bellissima poi mi è piaciuto tanto anche l'ultimo viaggio gli snow monster sono stati molto belli e bravi vedi ci sono adesso mi piace bravi bravi poi cosa mi è piaciuto mi è piaciuto mi piace tantissimo Kanazawa Kanazawa è stupenda secondo me e poi fammi pensare fammi pensare altre destinazioni che mi sono piaciute tanto ehm fammi pensare fatemi pensare ovvero sono talmente tante che è difficile difficile selezionare però dai bene o male la natura è quella che mi ha impressionato di più sicuramente la natura in Giappone ragazzi è è praticamente predominato della natura molti non conoscono sanno se molti sanno Tokyo Kyoto Osaka Hiroshima poi finisce lì no l'Hokkaido però c'è molto molta natura ho visto sul su Twitch c'è dell'isola in Australia dei quokka quokka in chi l'isola vorrei vivere? ma io sono un giorno veramente mi piacerebbe andare a vivere al mare io sono innamorato del mare vorrei vivere al caldo quindi il mio posto ideale è nella Thailandia però se devo scegliere in Giappone sicuramente sceglierei Ishigaki o anche se forse troppo troppo cioè belle Ishigaki però magari c'è dopo un po' magari può stancare va bene anche l'isola principale di Okinawa non magari a centro magari un po' più nel centro dell'isola si una storia lunga lei è stata cacciata dal padre e lei è tornata in Italia la famiglia di lui non l'ha mai accettato avevano detto avevano detto al figlio che si sposavano deve lasciare la casa anche lui wow mamma mia terribile non fa caldo non fa troppo caldo al sud no è quello che voglio deve fare caldo voglio un po' ciao 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 buona buonasera buonasera no no isolarmi no dai no perché dopo mi impazzisco il treno turno top eh ragazzi i cuocchi si trovano in usina vicino a Pert cavolo e io tra l'altro ho vissuto a Pert per sei mesi dovrei saperlo e ho pesato abbastanza non me ne ricordo cuoca fa vedere dov'è mi sono perso questa chicca vicino a Pert nei sei mesi cuoca Pert vediamo ah ma lo zoo no è un animale che cosa è è un animale è un animale è un animale è un animale ma che tu dici sono animaletti sono animaletti sono animaletti vedi 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 oh Federico ecco ragazzi abbiamo 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 con noi Federico Faggiani che è il l'allenatore del di una squadra di pallavolo della serie A giapponese che è la persona che ho incontrato il primo di di gennaio Federico ho appena raccontato loro la storia del tipo che ci ha fatto così al ristorante di Akitori allucinante non ho detto della pizza eh non ho detto nulla non ti preoccupare non c'è neanche bisogno di dirlo però abbiamo ho raccontato della storia del del tipo che ci ha che ci ha rifiutato malamente che che io mi ero incazzato ha fatto morire da ridere ma c'è ancora Federico perché lui è impegnato ma dove abiti ad Osaka? abitano nel nord nel nord ai baracchi si chiama ora si parlano non si possono incontrare cause covid si amano ancora ma la famiglia di lui ha distrutto una bella relazione infatti sei più da gatto la pizza è entrata no la pizza non raccontiamo questo rimane top secret Federico cioè mi vergogno proprio cioè proprio lì è è livello 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 vergognoso cioè non questo non dovrà non nessuno dovrà mai saperlo la pizza finale la pizza finale veramente è stata incredibilmente è stata la chicca propria della giornata no? no 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 basta basta no 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 tu non ce la faccio no perché poi rischiamo veramente rischiamo veramente il il ban cioè youtube ci banna youtube italia ci rifiuta oddio è caduto tutto ma che tra l'altro questi cuocca assomigliano molto ai wombat mi ricordo quando ero andato al al allo zoo di Perth avevo tenuto in in braccio questo gigante questi giganti wombat è stato bellissimo no no gli altri Federico cioè loro sono riusciti loro sono riusciti a veramente a sbagliare tutti i piatti cioè ogni piatto era un una roba allucinante dovevo fare un video lì il peggior ristorante di chioto dovevo farlo sai a questo punto a quest'ora ero ricco famoso facevo i miliardi sul web no 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 è un altro ristorante no perché noi eravamo talmente disperati che non riuscivamo non riuscivamo a trovare era tutto chiuso uno ci ha rifiutato gli altri erano solo accettavano solo prenotazioni e siamo finiti dentro questo ristorante di merda è stato una delle una delle peggiori esperienze culinarie della della mia vita sembra di scrivere dalla terra della luta e infatti è strano che così boh non so perché dovrò guardare le impostazioni perché io comunque ho una connessione veramente forte cioè potente no idea vabbè comunque ragazzi se volete sostenere questo progetto che è delle dirette costanti ve lo ridico ragazzi se volete fatelo se solo se volete abbonatevi al canale ecco non è tantissimo cioè sono tipo è un caffè cioè ci sono vari ci sono tre tipi di abbonamenti il primo è quello offri un caffè a marchino e gli altri l'altro il secondo no sono due abbonamenti scusate uno è offre un caffè a marchino e l'altro è invece il supporto tecnico che quindi sono soldi che invece per eventuali nuove fotocamere microfoni cose varie ecco no ragazzi quello della pizza non ve lo racconto no no lì mi dice veramente no cioè dovete neanche se mi pregate questo rimarrà un top secret di me e Federico se non sapete come si fa abbonarvi al canale è qui sotto lo trovate qui sotto c'è il pulsante abbonatevi detto questo ragazzi fattelo ovviamente se se avete il piacere di farlo ecco c'è sempre ritardo ragazzi qui c'è ritardo costante magari posso anche pensare poi dopo di fare quando inizierà a fare un po' più caldino di fare un po' qualche diretta anche fuori ecco ho tutta l'attrezzatura adatta per fare dirette anche fuori adesso però c'è meno 15 e siccome le dirette noi che viviamo qua in giappone dobbiamo fare la sera è un grande peccato eh c'è troppo ritardo ragazzi scusate che non so cosa dire va bene dai chiudiamo qua è un'oretta quindi grazie mille a tutti i ragazzi per aver partecipato a questa diretta ci sentiamo la mercoledì ci sentiamo mercoledì è sempre a solito orario vi auguro un una buona una buona fine domenica riposatevi perché domani è giorno di merda è lunedì è giorno più brutto ci sentiamo alla prossima diretta ragazzi grazie mille alla prossima un abbraccio a tutti grazie mille ciao ciao